Musica Ciao siamo il Glicca e veniamo da Milano Siamo 16 e siamo un coro coreografato Sono Giorgia Ruggeri e vengo da Torino Sono Marco Pronto e vengo da Ravenna Sono Remy Maira e vengo da Canicatim, provincia da Grigetto Sono Laura Piunti e vengo dalla provincia di Ascoli Vicente Sono Alessandro Nosenzo e vengo da Pescara Mi chiamo Selena e vengo da Reggio Calabria Sono Nadia Gai e vengo da Torino Ciao sono Aminata Pofana, ho 22 anni e vengo dall'Italia Fra origini costo d'amorio E sono qua insieme a Glicca per esibirci